Ciao ragazzi, ben trovati sul canale Foodshot Italia, canale dedicato alla copravendita di FIFA Ultimate Team, per chi ancora non mi conoscesse. Vi invito, per chi non l'avesse già fatto, a guardare gli ultimi video pubblicati sul canale YouTube, perché ho parlato stamattina, è un brevissimo video, dedicato al giocatore dell'anno del campionato cinese, infatti qua vedete l'annuncio di stamattina, poi è stato ufficializzato, è Wu Lei, il giocatore dell'anno del campionato cinese, e ho consigliato qualche acquisto, come potete vedere qua, qualche acquisto fatto in mattinata, per l'eventuale sfida creazione rosa. Comunque vi invito a guardare nel dettaglio il video di stamane, in modo tale da non parlare sempre delle stesse cose. Allora, quello su cui vorrei focalizzarmi oggi, è spiegarvi gli investimenti che io consiglio di fare per quanto riguarda il Black Friday, e quando farli soprattutto, perché se avete visto il video di un paio di giorni fa, a causa della sfida di Aviera Hernandez, la SBC flashback, il prezzo delle carte necessario, 83, 84, 85, non si è ribassato, per cui diciamo ci hanno mezzo fregato. A questo punto abbiamo veramente due possibilità, e le possibilità sono quelle che adesso vi spiego, però la decisione dovreste prenderla voi, cioè come io prenderò la mia decisione e vi dirò cosa farò io, voi dovete prendere la vostra decisione perché innanzitutto la compravendita deve diventare una cosa indipendente, cioè capire il meccanismo per poi applicarlo volendo anche da soli, ciò non toglie che io sarò sempre qui, spero sempre per darvi dei consigli. In pratica le opzioni sono due, allora o fare acquisti domani durante lo spacchettamento dei premi del Division Rivals e di Weekend League, alle 8 escono i premi delle Division Rivals, alle 9 escono i premi della Weekend League, oppure attendere le promo direttamente della giornata del Black Friday. L'alternativa è quella di acquistare le carte durante i primi momenti di promozione, durante Black Friday, perché durante Black Friday ci saranno dei pacchetti promo, un sacco di pacchetti promo, lo scorso anno ci furono anche sia la possibilità di acquistare i pacchetti a metà del prezzo, cioè io compro FIFA Points, oppure ho i miei crediti e il pacchetto lo pago la metà, quindi metà FIFA Points o metà crediti rispetto al prezzo attuale, al prezzo standard diciamo. E in quel momento appunto ci sarà una grande immissione di carte sul mercato, che verrà contrastata con delle SBC e in quei momenti potrebbe essere che riusciamo a fare qualche bella sniperata, qualche bel acquisto. Le carte su cui mi vorrei focalizzare principalmente sono gli overall 85, perché sono coloro che vengono utilizzati nelle sfide creazione rosa con overall 84, per alzare l'overall della squadra, del team, e ci sono alcuni giocatori, alcuni ruoli che si alzano maggiormente di altri durante l'uscita dell'SBC. Parliamo dei soliti Fekir, parliamo di Khedira, parliamo di Aspas come Saul, eccetera eccetera. Andiamo a vedere l'andamento di prezzo di queste carte. Come potete vedere nell'ultimo periodo, vedete, durante l'SBC dei giocatori dell'Europa League, i prezzi sono andati dai 14-15 fino anche 18 per Fekir. Poi Khedira è arrivato a 15-16k, chiaramente adesso ne costa 12, sarebbe un rischio comprarlo adesso. Stessa cosa per Aspas, Aspas che è arrivato anche lui, 16k, vedete? Quindi l'andamento dei prezzi al rialzo durante questa SBC con richiesta di overall particolarmente alto. Overall almeno 84 deve avere la sfida per fare alzare il prezzo di questi giocatori qua. I giocatori su cui investirò io sono svariati, quindi a partire da Miranda, Fekir, Paoligno, Vidal, Diego Costa, Khedira, così come anche esterni di centrocampo, Robben, Aspas, ma anche difensori come Company, Alderweireld, Ribery, Aspas. Però ripeto, sono investimenti che fatti oggi assolutamente no, perché i prezzi sono troppo alti. Questi vanno acquistati a massimo massimo 10k e già è tanto 10k, considerando che si compravano a 7-8 mila crediti circa nel periodo in cui non c'erano SBC che richiedevano overall così alto. Quindi io probabilmente già acquisterò un po' di carte domani, sperando di fare qualche buona sniperata durante la consegna di premi della Weekend League. Altro comprerò sicuramente durante i Lightning's Round. Per vedere cosa sono i Lightning's Round vi invito a guardare l'ultimo video dedicato a quando acquisto le carte per il mio club, dove spiego cosa i Lightning's Round, come funzionano e perché effettivamente si abbasseranno i prezzi giocatori. Oltre ad 85, io andrei a prendere anche qualche 86, senza esagerare, magari principalmente Müller, Ozil, Matic e Otamendi, quindi questi quattro giocatori, Müller, Ozil, Matic e Otamendi, perché sono giocatori più ibridabili e più utilizzati nelle soluzioni delle sfide. Anche questi però non andrei a spendere più di 16k circa, 15-16k circa. Per questo aspettiamo o domani i premi della Weekend League o meglio ancora i pacchetti promo del Black Friday. Non so ancora se il Black Friday inizi giovedì sera, quindi domani sera, oppure direttamente venerdì. È più probabile comincino dalla mezzanotte tra il giovedì e il venerdì alcune promo, però ancora non c'è stata comunicazione da parte di eSports. Seguiteci nei profili social in modo tale da non perdere le ultime novità. Fra l'altro vi consiglio vivamente di mettere un segui al mio profilo Instagram dedicato alla compravendita, Food Trading 18 Italia. Trovate il link in descrizione e il link diretto perché qualora ci sia qualche promo momentanea, qualche investimento da fare all'ultimo momento, è più facile per me e per voi vederlo direttamente su Instagram perché con una foto, con due parole, con un testo riesco a fare in tre minuti una pubblicazione. Al contrario per un video YouTube mi ci vuole più tempo, per cui è più immediato e più facile da fare. Quindi ricapitolando Overall 85 di cui ho già parlato, Overall 86. Dopodiché andiamo a vedere gli Overall 84 che saranno molto molto importanti secondo me per queste SBC e anche qua dobbiamo andare assolutamente a fare una selezione e andare a scegliere come per gli Overall 85 se acquistare domani durante la consegna di premi o venerdì. Per quanto riguarda gli 84 io mi concentrerai forse più venerdì che domani, se non magari qualche sniperata, qualche botta di culo che trovo a prezzi più bassi. Non considerate i portieri perché come vedete sono quelli che hanno i prezzi più bassi, principalmente giocatori ibridabili e difensori o centrocampisti nella linea di massima. Quindi già Paillet potrebbe essere interessante, Quarese è molto interessante, Giorginho, anche Bernardo Silva, Ami Martinez, anche Benzema, ma i top sono generalmente i difensori, infatti come potete vedere sono coloro che hanno un prezzo più alto. Socrates costa di meno perché ok è della Premier però non è ibridabile essendo greco, al contrario un giocatore come Sule, un giocatore come Albiol, hanno un prezzo molto più alto quando richiesti nell'SBC perché sono difensori centrali che servono sempre nelle sfide perché qualsiasi modulo ha sempre almeno due difensori centrali, quindi quello è importantissimo. Oltretutto uno è spagnolo, uno è tedesco, per cui anche loro hanno facile ibridabilità. Stessa cosa vale per Marquinhos che è brasiliano. Quindi mi concentrerai principalmente sui difensori, sotto i 5k dove possibile, ma ripeto è sempre comunque sia un rischio perché qualora non escano SBC che richiedano overall 84, il prezzo di queste carte durante Black Friday avrà un crollo repentino, un crollo proprio a picco. Però sarebbe assurdo non vedere questa tipologia di sfide o requisiti per appunto SBC sfide creazione rosa, per cui mi aspetto con qualsiasi che vengano utilizzate. Giocatori che salgono molto sono anche Fabregas, Caleon, perché spagnoli e perché di facile ibridabilità, così come Toven e Gundogan. Altro discorso molto molto importante, se vi ricordate vi parlai nel video YouTube, aspetta che andiamo sul canale YouTube così ve lo mostro direttamente, sul canale nostro, sul canale di Food18Italia trovate un sacco di video, tra gli ultimi ho parlato vediamo un po' del Black Friday e della sfida TOTF garantito. Allora intanto questo è il video di stamane sui giocatori che possono essere utili per l'eventuale sfida del cambiato cinese e qui ho parlato di quando è il momento giusto di acquistare le carte sia per il vostro club sia per gli investimenti durante Black Friday e questo qua è il video di cui vi parlavo, vale a dire investimenti per la sfida TOTF garantito, Team of the Week garantito. Lo scorso anno uscì una sfida durante Black Friday che ci dava un giocatore del Team of the Week 10 garantito inserendo una rosa overall 83 se non ricordo male 30 intesa, quindi intesa non ci interessa, ma che richiedeva almeno due giocatori del Team of the Week. A tal proposito vi ho mostrato in questo video, guardatelo perché è importante e vi permette di capire i guadagni che si possono fare con queste carte, di acquistare giocatori con giocatori IF. Infatti a tal proposito è importante vedere il Team of the Week di oggi e fare investimenti domani durante la consegna dei premi della Division Rivals e della Weekend League in merito a giocatori IF. Allora considerate che questa non è una squadra ufficiale, è una prediction in parte anche sbagliata perché alcuni di questi giocatori non saranno presenti nel Team of the Week però comunque sia la regola base è quella di acquistare qualsiasi giocatore IF che sia un IF argento, un IF oro, ibridabile o no, non ci interessa in questo caso purché sia ad un prezzo molto abbordabile, quindi un prezzo molto vicino al prezzo di scarto per quanto riguarda carte argento IF assolutamente sotto i 10.000 crediti per quanto riguarda IF oro possibilmente sotto 11.000-11.500 allora sotto 11.000 quando si tratta di giocatori IF, quindi come questi che hanno overall sotto 80 mentre giocatori che hanno overall anche 81-82 ci si può spingere anche fino a 12.500 crediti, overall 84 sotto i 20.000 però dubito ce ne siano perché se qualora uscissero giocatori IF 84 saranno giocatori interessanti come Vinaldum, come Valencia, come Bassoi quindi non avranno assolutamente un prezzo abbordabile quindi importante investire su, ricapitolando generalmente overall 84 non IF durante lo spacchettamento di Division Rivals e di Weekend League o in alternativa durante le promo Black Friday direttamente il 23 novembre overall 85, overall 86 stesso meccanismo principalmente io comprerò overall 85 e qualcosa 86 già domani durante i premi della Weekend League il resto lo concentrerò principalmente durante gli spacchettamenti delle promo della Black Friday direttamente venerdì e molto importante anche i giocatori del Team of the Week che vi ho appena spiegato se avete dubbi o volete chiarimenti commentate qua sotto vi ricordo di mettere un like al video per cortesia iscrivervi al canale seguirmi nel profilo Instagram perché come dicevo compra vendite lampo ne parlerò qua qui avete la possibilità non di usare i direct perché non uso i direct ma di commentare tutte le foto e rispondo sempre a tutti nel limite del possibile quindi detto ciò aspettiamo novità su Black Friday magari già stasera troveremo seguiteci sui social perché ci saranno novità forse in merito a date o orari di inizio della promo detto ciò io sono pronto come vedete 2.600.000 crediti da investire e niente siamo qua qualsiasi cosa un commento ciao ragazzi grazie per l'ascolto e la visione e un saluto a Lucio grazie per l'ascolto e la visione